Allora Mattenino, vogliamo prendere queste medicine o che cose? Ma scusa, allora ragione la mamma quando dice che mangi le caramelle? Al posto delle medicine, come facciamo qua? E il prezzo è mia mamma, ciao via! Matteino, guarda che se non prendi le medicine, la mamma non ti porta all'Olandia! No, fanculo! Quinti, 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 quinti!